29 condanne per la mafia barcelonese nell'ambito del processo gota 7 inflitti in tutto 180 anni di carcere l'amministrazione comunale fa pressing sull'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti ai privati alla messina servizi le operazioni di scerbature e pulizia resta il nodo messina ambiente in eurovisione per il giro di sicilia la città riesce a dare buona immagine di sé nonostante la maratona degli ultimi giorni perfetta la macchina organizzativa e della sicurezza nuova protesta degli esclusi dalla messina social city questa mattina palazzo zanca il tema affrontato in commissione servizi sociali gli ex dipendenti attendono risposte il messina supera 3 a 2 il real giulia 9 conquista la finale di coppa italia in programma il prossimo 18 maggio notte magica al franco scogli e superba prestazione dei biancoscudati che rimontano dallo 0 a 2